oggi vi porto una sfida di calcio bella raga sono steven basolari direttamente dal giardino di casa mia o chi lo sanno ho un campetto da calcetto oggi ho deciso di fare una sfida con chi se non con il boss del freestyle la sfida è semplicissima la classica sfida le traverse da tre posizioni diverse quindi da una posizione più vicina una intermedia e una più lontana quindi iniziamo parti tu oh cazzo subito vado eh un po' di 10 ore ah ecco no perché se no me la abbiamo io vado sul classico ragazzi bella easy per il boss o no ragazzi vi dico la verità lui avrebbe potuto fare 3 su 3 perché secondo ha fatto il giochetto da dietro quindi pareggio volarmi è finito in pareggio cosa dici me la sono cavata e stile ne direi che per te anche è stato easy è abbastanza easy per il boss 2 raga presto sul suo canale vedete la rivincita